ho scoperto e lo sono andato a cercare sento vediamo una cosa io metto il segnalino sulla mappa tu lo vedi? ho detto che la possiamo entrambi entrambi da qua perché vediamo qua si lo vedo quindi vogliamo buttarci di io non mi butto mai subito perché ti butto un sacco di genere tendo a buttarmi su dei posti un po' tipo questi l'idea la cosa furba potrebbe essere buttarsi sui posti militari che però non conosco ancora è tipo dei zero però io andrei su un posto un po' anonimo via dove stai tu? ah ti vedo non è questa casa qua ah sono queste casarelle qua a destra qualcuno vuoi giù toni? è un sasso si non vedi gente? non vedo gente no ok io mi sto dirigendo sono sono come si dice mi si è aperto in realtà è pieno di gente toni ce ne abbiamo uno solo ah io sono andato un po' più a destra mi sa si si no ti vedo ti vedo io ho trovato queste casette qua non vedo gente atterrare forse mi è andata di culo no non sei tu quello io ti vedo sono esattamente dietro di te eh c'è un tizio davanti qua mi sa che ha appena atterrato qui davanti sono un po' più sono sotto sono dietro c'è una porta aperta che mi sa la dice lunga sul fatto che l'amico sta qua dentro quindi questa la vedo brutta perché se questo piglia una qualsiasi cosa è il migliore di un pugno ci fotte ok ti vedo sono dentro sono ok dovresti vedermi sulla mappa si ti vedo ti vedo qua è chiuso aspetta provo a entrare qua no se c'è qualcosa questo qua è dove ho prima trovato dove ah cazzo eh no è andata male c'è uno qua dentro c'è uno con è pieno di gente cazzo questa è durata poco eh ah 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 no toh toh non c'è uno con gente che ti sta stuporando eh lo so me ne sono accorso sono praticamente morto eh no è andata è stata una partita molto lunga questa ah 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 c'è molta gente tutti qua stavano dove cazzo stavano no la parte iniziale è la parte più fastidiosa ti giuro tu atterri non stai il primo che trovo una cazzo di arma io posso rianimarti in qualche maniera no sono morto adesso sono un po' morto mi potevi rianimare quando ero stordito quando ero accresciato ma se se infieriscono sono morto eh sono almeno in due dove stai andando tu adesso in realtà ne ho visti tipo tre prima ah ok infatti e tu sei senza armi quindi io non ho trovato nulla in effetti eh attenzione sono proprio qua questi su qua dietro dicimi eh c'è oh sti eh io me ne andrei da lì vado che culo che culo via 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 eh però magari ci compare qua vado vado avrà già saccheggiato tutto ricorda lì di chiuderti le porte alle spalle quando tenete nelle case si non per niente che è un modo per chiederti quando si è entrato qualcuno in genere se senti la porta che viene aperta ma qua ti conviene che piglia e scappa ti posso mettere i segnaliti pure io qua tipo vattene no esatto scappa di qua verso la libertà e trovati un altro paio di casette per quelli la libertà però non sento il volume del gioco sperando che non ti vengano a fare questi ah quando metti il cappellino tutti i capelli c'entrano nel cappellino ok questo è l'altro ah 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 Allora, arriviamo da lì, andrei quasi quasi con un ciume tipo qua, perché molti andranno a Gatka, credo, a Rozzocca, anzi che non ho capito che si può zoomare in questa marca. Allora, tu hai messo il segnalino blu? O è il mio il blu? Ah, è il mio il blu, ok. Il tuo sarà giallo, perché sono le rovine, non so che sono le rovine, non so che sono le rovine, via, mi sa che sono le rovine, va bene, va bene, i miei segnalino non lo vedo più, ma mi ha fatto girare di culo, proprio, le rovine in genere. Devo, devo assiste, ecco perché sentivo lontano, e mi sembrava strano. Sei tu quello? Sta aterrando davanti, no, c'è ancora un altro. Un altro? Un altro è andato all'anfiteatro, tipo, è buttato. È atterrato dove ci sono le colonne, sì, a sto punto io direi un po'... Dove stai tu, non ti vedo. Io sono un po' lontano da te, però se tu atterri su quelle casupole ti provo a raggiungerti. Mettimi un puperuolo. Ah, ho capito, per esempio, è da sopra in alto lì, ignoriamo le rovine, ma sì dai. Vengo, esatto, dove sei atterrato tu, fondamentalmente. Sì, sperando che non ci sia gente. Provo a correre forte forte, Tony, ho paura. Eh sì, i minuti sono drammatici, so già. Le porte di questa casa sono chiuse, quindi... Vedo la casa e vedo te. Tanto vi aspettavo che girassi di merda, invece non è... Ma guarda, è strano, più che altro, cioè c'è dei momenti in cui muore proprio, a caso. Sì, leggevo su Steam. Oh, armi, signori miei, allora, uno... C'è qui c'è anche uno zaino extra, eh. Dove scrivere? Sono qua, se senti una porta aprire non ti spaventare che sono io. C'ho un S12K, credo sia uno shotgun di qualche tipo. C'è un'altra armi pure qua, credo. Non si può entrare dalle finestre. Sei tu questo, sì, ok. Sì, sì. Vattene via un colpo. Solo porte. Qua ci sono molotov e cazze... No, purtroppo non puoi scavalcare queste robe qua. Eh, ok. Vattene a vedere l'altra casetta, comunque. C'è un'altra. C'è un'altra a fianco, proprio così, magari ci... Io fa... Ah, qua c'è anche un M416, eh. Se non trovi niente, fai un fisco e te lo molo io. Ok. Entro nella casa del grande fratello. Ecco, per esempio... Ah, ecco come funziona lo zoom, ma... Sto... E... Ti vedo. Entro. Allora, qua c'è uno zaino... Beh, non mi... E qua dentro c'è un... Dovrebbe esserci... Dove cazzo è finito? Io avevo... Non... Beh, dovrebbe esserci da qualche parte. Dovrebbe avuto buttato un... Ah, eccolo qua, è un S12K. Qui c'è un fucile d'assalto, non ho sciolto. Non ho ben capito cosa sia. Che munizioni piglia? Non ne ho di munizioni. Che munizioni servono? Allora, servono le... Dove te lo dice? In alto a destra della dove c'è l'inventario. In alto a destra in ogni singola arma c'è scritto quante ce n'hai che... Sono... A forma di... Quelle dello shotgun. Ma non c'è scritto, quindi... 12 gauge? Ah, sì, ah, ok, è quello. 12 gauge? Aspetta, te le droppo qua. C'è una decina io, un po'. Mi sa che a più di sopra ce n'era qualcun'altra, però... Se mi copri un secondo, sistemo il mixer di Windows... Se tieni in occhio le scale, così mi metto il gioco... Vado a buttare un occhio fuori la finestra, insieme a me che arriva qualcuno. Allora, perché devo cambiare il dispositivo? Non ti dice dentro quanti minuti sulla mappa? Non c'è scritto mai tra quanto si restringe, no? Devi aspettare... A poi che siamo già dentro? Quel timer in alto a destra su... In alto sulla mappa, che cos'è? Ah, 1.43, sì, allora sì, allora sì, che lo sia quello. Vabbè, noi siamo nella zona... Ah, è vero, quello ti dice pure in che posizione ti trovi tra il muro e la parte bianca. Dove passa? Ma qua c'è una pistolina, se vuoi, se non ce l'hai già. No, la pistolina sti cazzi, dai. Macchina. Sì, mi sembra di sì. Nettamente macchina. Decisa. Te ne stanno. A lato. Eccolo, sta andando via, credo. Sa che l'ho visto. Stava andando verso il tempio. La macchina si è fermata, ma sta andando verso le rodine, ok. Ti dicevo, vedi, fa vedere quanto sei distante sia dal muro della morte che dall'area di sicurezza. Mh. Con il quadratino bianco e il quadratino blu, no? Credo siano. Vento rumore di passi sullo sterrato. La porta è chiusa? Le porte sono chiuse, sì. Tutte e due. Non ho capito se si possa sparare attraverso le finestre. Immagino di sicuro, no? Non l'ho mai visto. Beh, direi che possiamo provare a spostarci. Possiamo uscire, sì, dai. Vediamo un po'. Aspetta. Dovevi andare... No, occhio, 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 occhio. Ce n'è uno, è entrato uno nella casa di fronte, eh. Ok. Allora io mi faccio... Ah, il problema è di queste cazzo di mobili qua che ti... ti chiudono il... Non ti mette davanti alla porta... Non so se ci sia il fuoco, amico. Te amo di sì. No, non sono davanti alla porta, sono davanti alle finestre. Esatto, ho visto, ho visto. Sta uscendo... Dimmi se viene qua. E se ne sta andando. D'accordo. La porta l'ho aperta io, è andato... Il tizio è andato dietro la casa. Da che lato? Da sinistra è andato. Dalla parte opposta dove sono andato io. Eccolo. E' muovo, ragazzi, da questo minio di vostro. Do' stanno? A terra, va a che parte? Ah, ah, cazzo. No! Aspetta, aspetta, sto arretrando. Provo a tirarmi su... Lo vedo, lo vedo. Dovresti pattiarmi su... Dovresti pattiarmi su... Dovresti pattiarmi su... Dovresti a finire c'era un shot che è ancora un problema. Dove cazzo stava? Io posso sparare da qua. Sto facendo il giro, occhio. Au, au, au. Dentro, 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 dentro. Entra, 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 entra. No, ma... Ma dove cazzo stava? E' stato morto prima. Cazzarola. Dovevi provare a tirarmi su ma non c'era te. Ma dove cazzo stava? Erano due. Probabilmente erano due. E uno è entrato... Era in casa, quindi, l'altro. Quindi c'era ancora un altro. Fattenzio. Aspetta. Eh, che sfiga, però. E l'avevo colpito quindici volte, quel tizio. Non è mai... Non moriva. Che cazzo c'è arrivi? Vai, bella. Vaffanculo, vai. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro fuori che mi vuole far del male. Ma non c'hai ben delle cose. Non c'è niente, vero? Attenzio, ti sacco lì. La shot grande è buona. Ah, buona. Tira. Bella. Cosa l'hai preso? No. Vedo di no. Io farei la cosa. Chiuditi qua dentro. Dici con... Sì, sì, chiuditi qua, Dio. Traveri, se c'hai... Non c'hai band, non c'evo niente. Non c'ho un cazzo di niente. Eh, ricarica. Che non ho munizioni, ho l'ultimo. Una? Cazzo. Ne ho una per il fucile e ne ho ben quindici per la pistola. Eh, non lo so, terrai il fucile a sto punzio. Sento pure il rumore di macchina. Ma tu tocca a Venere, ma è che c'abbiamo lo zucchero, come me, ultimamente? Purtroppo non posso aiutarti, chiaramente, io, da fuori qua. Non mi fa vedere altro. Io comincerei con... Io proverei ad andare... Esatto. Chiudere questa. Chiudere questa e raffire... Alla porta non c'è più, attenzione. Ah, però puoi saccheggiare qui. Il problema è che t'ammazza qualcuno mentre saccheggi c'è questo piccolo problema. Fai attenzione. Vedi se trovi subito tipo un medikit, una cosa del genere, lo pigli al volo e... Ti vuoi chiudere nella stanza e ti curi. Se ce l'ha qualcosa qua sulla cassa qua. Energy drink, ben di... Buono pure quello, ma... Ah, eh, no. C'è un'altra casetta del guardacaccia, sto atterrando, cos'è? Io ho chiaramente perdo male il spragaduto, quindi adesso sto deviando come un coglione 20 km più a nord. Non ti vedo... Beh, in realtà io sono atterrato molto più lontano di quanto volessi, eh. Io sono arrivato qui, a queste casette qua. Ah, sono... ti vedo. Non vedo gente, quindi... Vedo... è atterrata un po' di gente. Occhio, qua c'è il coso del bar. Ma dove però? Dove sto io? Ok, ecco, dalla parte... Dove c'è il campo. Ah, scatta tutto. E... Ho trovato... Un elmo da motociclista. Boh. Un elmo. Un casco. Io una canata assordente ho trovato, finalmente, che non è altamente il massimo. Nel cesto c'è una... Una montanica di benzina. Tra l'altro siamo orribilmente fuori, eh. Fuori dal... dal cerchio? Dal bianco. Sì. Ahia. Vabbè, dobbiamo cercare un... In teoria dobbiamo cercare un mezzo. Però dai, in genere il primo... Il primo... Cosa ci mette un secolo a... Oh, non c'è una minchia qua dentro. Che cazzo? Una pistola, la roba. Ci sono... Ci sono, Tony. Sono arrivato anch'io. Ho portato una... Una polis vest livello 2. Oh, che buttala. È una pistoletta con 30 munizioni. Se vedi una macchina... Ti vedo, eh. Stavo cercando macchina. Nel rotto non si può entrare, vero? No. No. Un mezzo qualsiasi, una dacia, una cosa. Allora, qua... Qua c'è sicuramente un fucile. I want to believe. Ho trovato una pistoletta. Eh, pure io c'ho una pistoletta. Vabbè, perché comunque sono... In realtà, io con un revolver ci ho seccato uno ieri, che è stato un momento bellissimo. Solo munizioni che sta dando un sacco di munizioni. Bende, munizioni, canottiere inutili. Diciamo che sono meglio delle mani nude. Sì, quello sicuro. Ho trovato il gas per la benzblan. Eh, ce l'ho pure io. Non so se conti. Non mi voglio riempire troppo, perché c'ho lo zaino vedente. Ho messo la canotta. Cioè, non c'ho lo zaino, voglio dire. Cioè, quindi, insomma, con la... Con la... Che cazzo, però. Esatto. Poi ci stava un zaino... No, è andato sulla mappa, ti segno. C'è gente che spara, non mi sbaglio. Io ho un poderoso piede di porco e un revolver con sette proiettili, eh. C'è proprio... Questa casettina piccola l'hai controllata? C'è uno zaino, adesso non c'è più. Che cazzo? Secondo me questa casettina piccola mi regala un sorriso. Eeeh, no. Ah, è qua, ok. Un'altra risposta di merda. Adesso sono sopra, se sali al secondo c'è lo zaino. Allora, se vuoi lo zaino, è qua dentro. E' ormai lo piglio, dai, corriamo velocissimi con il muro della morte che ci insegue. Vai su al secondo piano e sopra il tappeto. Dov'è la scala? Qua. E' qua. E' qua. Ok. Tu ramaschi l'antigas, eh. Tu hai snobato, io me la metto. No, no, ce ne erano due di maschere l'antigasse, infatti sono ancora... Vai vai, esci, esci. Allora, dobbiamo correre velocissimi verso il futuro. Eeeh, dritti di qua. Eeeh, dritti di là, anche... Io toglierò proprio anche la posizione prana. Ma non lo stress. E soprattutto non ci dobbiamo armi. Tu hai trovato un fucile o qualcosa? Io ho solo il pistolino. Il pistolino, perfetto. Io ce il revolver. E' sicuramente qualcosa qua. Eeeh, oh. Però ho qualcosa sul tavolo. Sono più lontano di quanto pensassi, ste case. Sto giocando con un mio amico. Ciao. Anche se non mi sento, ovviamente. E' Antonio. Gli ciao. E' Tony. Con la umlaut. Capanno, regalatemi un sorriso. Cosa? Trovato nel metto. Antonio qua nel microfono, sì. Tu non lo senti, ma lui sente te. Eh, cioè, è vero. Non ci ho pensato. Siamo dentro. Siamo dentro, sì. Io sono un po' mezzo fuori. No, adesso siamo dentro. Sì, non ci sia nessuno in quelle case lì. Secondo me è pull di... Non vedo, non vedo... Beh, non vedo porte, quindi non so. C'è una macchina però, Tony. Mi sembra in buono stato. Sì, quella bianca lì? Sì. Ah, la tacia bianca? Sì. Qui ci sono tre tipi di metri, ho capito bene. C'è quello, c'è la di un buggy. E poi c'è il camioncino, c'è il SUV tipo, la Jeep, ecco. Allora, l'idea... La bug temo abbia solo due posto, solo un posto. Invece questa credo... Ne ha ben quattro. Ah, porta aperta lì? O è semplicemente sfondata? Sì, però porte che non ci sono in realtà. Ah, ok. Quindi sono entrato qua ma non c'è. Io entro qua. Spari a destra, un po' lontani. Allora, qua abbiamo un... Sì, un cosoro, un red dot, non so che farmene. Qua non c'è, nella casa... Nel casolare davanti non c'è nulla. Eh, manco qua. Ah, porca cazuzza. Come sei brava, Viola. E allora ditene che volete soffarci soffrire. Allora, dove sta il centro della morte? Dobbiamo andare, tipo, qua. La macchina dove stava? Dove sono io. Arrivo. Ti lascerò l'onore di guidarla, Tony, perché mi sento... Ok. Ti aspetto dentro come... Che bella macchina. Oh, là, che bella animazione quando entri. Ok. Tony, mi raccomando, so che non è la patente, ma rendi più curiosità. Non vedo il mio scenario. Ma se abbiamo shift, c'è la donna, qui. Allora, va, 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 come... come GTA, va. Allora, guarda, mamma, donna. Guarda, come siamo. Il problema dei mezzi, come potremmo dire, è che fanno un rumore della madonna. Quindi... Qui, Andrei. Poi ci puoi investire la gente. Yeee. Allora, io andrei... Queste cazzo non ve le avevo buttato. No, però sono lungo la strada. Mi fermeremo poco qua. Buttano occhio bene, non è vero. Ah, quando sei... In macchina, se schiacci, ti impassa la persona, se ti è freguito... Usciamola. Qua è chiuso, quindi, qui, vediamo. Tanto siamo ben dentro, no? Sì, dovremmo essere dentro anche per il prossimo giorno. Allora, andiamo un po' se c'è qualcosa... Chiudo la porta. Però, era aperta anche dall'altro lato, Tony, eh. Non so se... Ah... Cioè, quella... Quell'altra porta era giù aperta. Eh, ho capito, ho capito. Io lo chiuderei. Vediamo se c'è qualcuno sopra, per la nostra conta. In realtà, a me è successo di trovare case aperte e zeppe di roba, comunque. Io c'ho una ballistic mask, ho trovato. Però non riesco a trovare un'arma, c'è questo piccolo problema. Sono un po' tettissimo con la testa e il volto, ma... Vediamo se c'è qualcuno sopra, no? Mi metto la maglietta a maniche lunghe. Però non c'è niente, quindi... C'è una jeep, all'improvviso... Ma è ferma da... Cioè, è ferma? Mi sembra usabile. Ma sono sabbio, sono sabbio, dico, però no. L'importante è che non c'è entrato qualcuno. Spari, spari. Gente sulla collina, gente sulla collina a sud. Metti un... Ah, collina a sud, ah, ok, perfetto. È macchine pure, sento. Macchina da morte. La macchina è invece a nord. Nel senso, siamo in mezzo alla giostra, comunque. E non abbiamo armi. Io dobbiamo aspettare che si diavano dei coglioni e si ammazzino a vicenda. Sento delle esplosioni orribili. E questa è il bomber, è la red zone. La red zone è vicinissima, sì, però. L'attiglia ancora, ma hai fatto via. E allora, non so dove andare. Siamo dentro la red zone in questo momento. Oh, cazzo. Io mi sposterei lì. Però, eh... Cioè, dici di attraversartela tutta? No, di andare verso di qua. È stato finché non bombardano. Perché se usciamo dall'altro lato siamo fuori, capito? C'è questo piccolo problema. Se usciamo dalla red zone... Eh, sì. E allora prendiamo la... Ah, prendi la macchina, sì. Cazzo, cazzo. Prenderei la macchina o la jeep? È questa la macchina. La macchina l'ho trovata, dai, facciamo prima. Macchina jeep stessa, vai. Ah, sì, dai. Poi non è che muri automaticamente dalla red zone. Perché mi ha dato un po' di rostri di scappare da dentro. Stai andando verso il segnalino che è persa tutta la mappa esta, vero? Ok, se io ando un po' largo, non cercare di imitare le spiuglie. Le esplosioni. No! Ops! Va bene, non siamo. Io aspetterei a sto punto che finisce la red zone. Sono in macchina con toni. Perché non si può fare il giro, il giro? Devi passare. Non si deve. Come sei brava a suonare lo strumento, tu ola. Siamo dentro la bianca? Siamo dentro la bianca. Occhio che c'è un... Esatto. Ok, no, da qui volevo vedere se si vede... Ah, c'è la palestra, Tony. C'è? La palestra. Fa cacare, ma è che possiamo... Meglio che... La palestra cos'era? Uno slot delle pistole? Eh, lo sto provando ad andare... No, nemmeno quello, una slot di armi. Io ho trovato bandage. Ah, ti si è messo tolla qui? No, no, ti... Ti lascio. Ah, sì, può scendere. C'è, tantissima, cara. Eh, tra l'altro è dove stavo andando prima. Siamo più o meno dentro, ma non al centro. La palestra fa male, ma è... Ci mette quei sette anni a ricaricare da qui. Qua è una finestra. Non vedo gente, ma... Tutta quella gente che stava lì, da qualche parte... Ah, qua è aperta. Quindi, che famo? Proviamo a entrare in questa casetta. È aperta, però, eh. Oh, è quella bianca? Ah, quella bianca. Cos'è? Sono sempre... Oppure... Oppure potresti buttarti... Là. Là dove? Posso segnalarlo sulla mappa? Ah, sì, è aperto su questa. Ok. Puoi seguire, c'è una strada. Ok. Ma qualcuno da investire, mai? Ah. Ah, l'ippavviso lo sputterò lì. Sì, anch'io. Occhio. Io direi di scendere... Scendiamo. Scendere qua. Chi è? Pari. Pari. Pari vicini. Non vedo. Anche io, cazzo. Eh, vaffanculo, sono a terra. Sei giù? Sì. Ma non sono ancora morto, ma sono a terra. Posso rianimarti in qualche... Eccoli, 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 eccoli. Dove? Eh, sono davanti da te. Esatto. Ah, non posso fare niente. Non posso guardarmi. Ma vaffanculo. Ah. Vabbè, diciannovesimi, abbiamo preso questi cinquantacinque... Ah, ma t'hanno fatto pure a te? Ah, no. Sì, sì, mi ha... Aveva lo... Lo scarmia, ho provato a sparargli con la pistoletta, ma giustamente... Eh, vabbè, non siamo stati tutta la cazzo partita senza armi. Però no, effettivamente no. Non dobbiamo scendere lì nell'aperto. No, fermarci dietro una casetta. E stare un po' più... Allora, qui sembra abbastanza... Abbastanza serena la situazione, vediamo. Sperando di trovare una cosa, dicendo... Ad atterrare... Ma in realtà... C'è ancora una motocicletta guidabile questa, eh? Con la sidecar qua. Cioè, se c'è il sidecar guidabile, è il gioco dell'anno. Ah, io dico... No, io sapevo che non ci fossero, sai, ma forse... Magari l'hanno aggiunti dopo. Dopo vediamo. Oddio, se il trattore fosse guidabile sarebbe il gioco dell'anno. Il trattore sarebbe il gioco dell'anno, assolutamente. Che gioco c'era il trattore? Ah, in Cossoli, quello di... Quello di Ubisoft. No, purtroppo il gioco non è... Il trattore non è guidabile. Siamo appuntantemente dentro la mappa. Ghosts. Vado a vedere... Io ho trovato una falce, un elmetto, una masca anti-gas, ma... Io vado a vedere la casa bianca, col tetto azzurro, in fronte. Una pistola, non c'è di niente. Cos'è? Oh, quante belle collane. La casa bianca e la casa nera. Qui c'è una pistola inutile. Ah, ho trovato un bel M416. Ah, quello è buono, eh? Quello è la K, il migliore, da quanto ho letto, però. Col redot... Ma si può salire sul serbatoio, qua, mi sa di no. Qua però c'è... C'è una casa qua. Ah, dove stai tu questa, mi sa? Allora, la stessa casa, credo. No, c'è una... Tannica di benzina. Allora, io ho trovato il redot. Sono molto soddisfatto di questa... Eh, ti andate di culo, eh. Di questa scelta. È ufficialmente quello che spara adesso. Il container, il container, il container, il container. Il container, il container, il container, il container, il container, il container, c'è un sacco di casse vuote. Eh, Tony, se vuoi, posso mollarti una pistolina, se mi può... No, ce l'ho la pistola, ce l'ho la pistola, eh. E ti rido anche mentre la droppo. Volevo un... volevo un'arma vera. Vuoi anche le pretese. Eh, non si passa. Ok. Oh, tu stai qua dentro, immagino. No, qua no. Eh, Tony, l'arma vera per te. C'è uno shotgun. Vieni dove sono io, al piano di sopra, in solaio. Che, credo che sia la cosa più bella. Io so, join your channel. Ok, ragazzi. Weee. Eh, ciao Daniele. Buona festa. Abbiamo fatto tutto un platoni. Ci sono mille armi anche qua, dietro i mobili. Sì, sì. Ah. Puoi scegliere. È il momento di morire male adesso, fra un secondo. Qua c'è lo shotgun e qua c'è un... Uuuuh. Allora, c'è, io prendo l'M4 e un pacco di munizioni, un paio di pacchi di munizioni. Tu munizioni ce l'hai? 55-60. L'M16 ce l'ho anch'io, quindi sì, e di munizioni ne ho una sessantina, quindi venito a contenere. Allora ne prendo un po', gli altri te le lascio, dai. Ok. Anche perché mi sa che non c'è più spazio, infatti. Mi sarebbero un zanettino. Però posso... Ah, posso portare... Ah, io... Perché io ho l'M4 e l'M16, puoi usarne tutti e due, sono due slot diversi. E c'ho anche l'olografico. Toh, suca. Come il battlefield. Mi prendo anche lo shot. Eh, tanto è rotto. Non me lo prendo. Non me lo faccio chiaro, perché? Eccolo. Anche a mettere l'altro slot. Le munizioni sono un po' poche, ma... Meglio niente. Gioco dell'anno! Entra. Ti fa salire di là. Eh, abbiamo vinto. Abbiamo vinto il mondo, adesso venuti verso il futuro come due. In realtà c'è una jeep lì, ma noi lo stiamo ignorando perché c'abbiamo in statica. Bre-bre! Non l'avevo mai visto in statica. Adesso moriremo male, però. Vabbè, abbiamo vinto la partita. Arma abbiamo un vincitori morale. Tra l'altro un occhio a se sono a santa gradi, perché è un divario. Qua, qua c'è roba. Gente. Allora, io parcheggerei qua. Mi sembra una buona idea. E starei molto... Allora, quella... La casa è aperta. Quindi... L'idea è... O ce ne andiamo... O ce ne andiamo proprio per i cazzi nostri. Mia madre mi sta chiamando in un momento pessimo. Tipo di là... O proviamo... Sara! Ma sì, dai. Andiamo, ce ne va. Ma è ancora presto per rischiare la vita, stupida. Aspetta un secondo, eh. Copri un attimo. Anzi, salgo sulla motoretta e... Eh, salgo sulla motoretta, esatto. Questo dice. Perché mi segna... Perché non cammina sotto? È mia mamma, puoi dirle che... Ah, perché mi sono seduto al posto sbagliato? Ah, eri seduto dietro. Ah, qui tre persone ci vanno. Ma è la cosa più bella del mondo. Che dile se è arrivato a casa? Oh, 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 oh. Guarda, va, vi dito il muro, vi dito la casa, vi dito la casa, vi dito la casa, vi dito la casa, vi dito la casa. Ok. Ok, va, rutta, ma possiamo scendere. Però attenzione alle spalle qua. È aperto? No, apri. Vai, vai, vai. No, no, ci prendiamo sulla porta. Da che lato erai presente? E secondo me arrivavo andò dietro. Andò dietro. Sai che non mi fa più chiudere la porta? Sei buggata la porta? No, devi metterti a botte un po' sbilenco. Ah, c'è una bella finestrona. Un po' sbilenco, sì. Ah, io sto guardando da sotto. C'è lo zaino che non hai, Tony. Dove? Dietro di te. Proprio sotto il tuo culo. Pesso, pesso. Attenzione all'acqua roma. Poi, non ha un secondo piano sta cosa, vero? Beh, la faccia, prendo così, giusto? Guarda, c'è il balcone. Bagno? Vai. Qua abbiamo un first head kit delle bende. Le bende. Allora, io bende ce ne ho. Occhio, Tony. Tony, 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 Tony. Dove, dove? Gente. Eh, che casa, è quasi morto però. Annaggia miseria, che mira c'hai? Morto, morto, morto. Tirammi su, tirami su, tirami su, tirami su, tirami su. Tira la porta, tira la porta, tira la porta. E come faccio a tirarti su? Non lo so. Comunque, devi usare le bende, forse. Posso cambiarmi la maglietta, ma... Ah, eccoti qua. Che come si fa? Eh, devi solo cercare di beccare lo spot giusto per... C'è gente comunque. Sento una porta, sento una porta. Entra. Occhio, che arrivano. Eh, lo so, ma io sono morto praticamente. Dovrei, dovrei applicare... Ok, guarda la... Guarda la finestra. Oh, che bella luce che hai. Dovrei applicare il medikit, non so se faccio in tempo però. Io mi so sdraiato così tanto per... A me non mi fa sdraiare. Aspetta che mi alzo io. Non credo che ti possa mettere il... Occhio. Si stanno ammazzando tra l'altro di voi. Secondo me... Mi c'è ne appena passato... Porco, due. Qua fuori? Eh, sì. L'ho preso in faccia, ma non è morto. Occhio alle spalle. Oh, che gattino piccolo. Che contensione, Viola. Mi dobbiamo chiusire un cesso e facci sparare. È un brutto momento, signori miei. Oh, lo devo fare. Allora, se senti aprire la porta, girati fortissimo e spara tutto quello che hai. Te lo dico. Tu stai guardando la finestra? Io ho quasi... Ce l'ho quasi fatta, ce l'ho quasi fatta. Ok. Ok, ti vedo abbastanza curato. Sì, mi sono fatto il medikit. Mi sono applicato il medikit. Ma come si applica il medikit? Tasto destro. Cli te? Cioè, se lo selezioni clicchi con il tasto destro sopra e fa tutto. E invece Bandage? Uguale. Ma i Bandage ti curano tipo 10 e non posso andare sopra il 75, mi pare. Sono un po' l'ultima spiaggia. Poi c'è una cosa che non ho capito. Alcune cose ti danno dei boost. Tipo l'Energy Drink ti dà dei boost. Sono dei trattini arancioni. Ho aperto la porta, Tony, e striscio fuori come un verme. C'è uno lì proprio fuori. Trisco. C'era un altro che più. No, cazzo. È qui, qui, qui. Ammazzo, prima che mi finisce. Che sfiga, per questo, tazzo. Non posso cambiare, non posso più usare la pistola, tipo. È morto. È morto, è morto. Sei un grande. Madonna, che ansia. Ti vedo malissimo, tra l'altro. Sto male pure tu. Io ho fido i medici. Siamo come cazzo facciamo. Ho tipo due punti di salute. E voilà. Oh, ma bello. Adesso. Adesso io mi luto. Io c'ho un... Ah, non c'ho niente. Le porte. Io non c'ho niente. Ah, possiamo luttare, cazzo. Sì, vai, prendi te. Luto io? Non mi dico che c'hai delle bende. Ah, bende, energy, drink. Poi, appena sei pronto. È la padella, signori. La raccolgo solo per averci, la padella. Aspetta. Ah, che ansia. Le bende non fanno un cazzo, però. Eh, io ho solo dieci bende. Eh, io pure, ma... Adesso provo. Appena sei... Appena le hai usate tu, mi bendo io. Thank you. Io che so, Rabeina, lo so cosa in faccia, proprio. Dovevo vedere se sono... Ah, tutto carico. Ok, io sono pronto. Se vogliamo spostarci... Sì, la motoretta la vedo fumigante. Non so se è conviene. Sì. Possiamo andare... Ah, siamo già dentro. Ah, ah, ah. L'aria strettissima, porche... Ah, bene, allora starei nella casa. Tornite la butto lì. Io starei nella casa pure io, va. Te la butto lì. Te la... Chiuderei porta. Te la provo senza... Te la provo senza dubbio, proprio. Ah, questa porta qua non c'è più temo, vero? Qua dentro non c'era niente, no? Ah, invece c'è. C'è la porta del cesso qui che è mezzarotta. Allora. Beh, questo qua... Faccio un glitch del... Ah, 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 macchina, macchina a... Da dove? A est, a est. È scesa dietro la casa gialla. Un po' lontano, però non so se... Casa gialla che non l'abbiamo aperto, non l'abbiamo visitato, mi sa. O sì? No. Io sto guardando a ovest e non c'è... Non sta arrivando nessuno. Mi aspetto che arrivi... Che qualcuno possa arrivare dal di fuori. Io spero anche che qualcuno si faccia ingolossire da quella casa gialla. Certo che se qualcuno entra da lì, me lo mette nelle chiappette. Sì, guarda la porta, allora. Sono... guardo le due porte. Ah, ci sono due porte? Ah, è vero, c'è l'altra... Però sono abbastanza vicina, almeno. Cioè, nella stessa stanza. Infatti se sto in fondo... Riesco a... Le cose le voglio fare in privato. Allora, ci sono andati... Ah, con X metti via l'arma. Sento dei rumori. Sono io, sono io che cambio l'arma, credo. L'attenzione è vera. Sto giocando... Cioè, c'è la tensione ma c'è anche la pimpa. Ma chi è il tuo nipote? No, è la... Dei nostri amici, che è la bambina dei nostri amici, capitano di qua, di sotto. Si restringe, quindi... Si restringe? Sì, tra 30 secondi si restringe. Ah, beh, però siamo già dentro, siamo già dentro. Ma poi si restringe ancora? Chiaro. Credo, altre due o tre volte. Cioè, l'ultimo è proprio un cerchettì. 29, ancora 29 vivi? Eh, stanno tutti nella zona lì. Sì, mo' stanno venendo tutti qua, stanno venendo, quindi... Il problema è che io sono girato a lato... Non sono girato dal lato del, come dire, del confine bianco, quindi non so se... Io sono... Io vedo il confine bianco verso ovest. Se li vedo arrivare, io sto verso l'interno, purtroppo, da qua. Camperati! In un cesso, camperato in un cesso, nel bel momento, signori. Agio paura. Quello sei andato, probabilmente, il tizio divino. Sennò... Ha fatto il giro. Cioè, la sua dacia bianca. Figlia di un regime mai dimenticato. Ma non c'è il sidecar, io il sidecar. Allora, mi posso pronare e guardare fuori. Mi sembra un'ottima idea. Sì, io da qua mi sa che c'ho poco una visuale, un po' di merda. Un attimo se striscio. Ok, strisciando mi ha fatto uscire. Avantculo, ci mancava solo di morire con quello. Vedo l'elettricità, Tony. Eh sì, perché siamo vicinissimi. Ah, adesso dobbiamo spostarci. Adesso dobbiamo spostarci. Fra quanto? Il sidecar fumigava, non so se però, però abbiamo fatto... Non lo vedo più. È qui fuori. Ah, c'è ancora, c'è ancora. Vai, vai. Direi che possiamo... Apriamo? Ci buttiamo... Attenzione che... Qua arriva gente sicura come la morte. Tento rumore. Sì, questo è l'aereo che bombarda, credo. Andiamo sul sidecar? Eh, andiamo sul sidecar. Vai. C'era un'altra cassa di mototipi, se invece... Allora... Allora, il sidecar... Allora, non posso uscire. Tony, Tony, Tony! Sì, 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 ti ho fatto, ti ho fatto. Io non ti voglio, ho paura. Eh, sì, perché mi sono un attimo distratto per guardare il segnalino. Qua stiamo rischiando malamente perché c'è la pianta di meno di persone che saranno nella stessa sala. Io direi, devi a sinistra e vai verso il segnalino come so io, ci sono delle case. Ok, non lo stai randando perché mi sono andato a meno di persone. Io parcheggerei su sta cosa qua, su sta colina. Sì, questa è una massima idea. E me ne scenderei schiscio schiscio perché ho paura che... Spari. Spari. Però non sparano a noi. Io guardo... ...il lato delle colline e non vedo nessuno arrivare là. Io sono verso le casette... ...verso nord-est e non vedo nessuno. Io provo a zoomare malamente. Tra l'altro non si può sparare da proni. Sì, come no. Dipende da come stai messo. No, devi essere fermo. Ok. Stanno sparando da questo lato. Quale lato? Dove sto andando io? A est... A sud-est. Ok. Arrivano da lì i suoni di sparo. Ma in realtà arrivano anche da sud. Perfetto. Anche da nord. Siamo tra due fuoco. Non è bello. Sento anche una macchina. Ecco la macchina. La macchina a est. Oh, chi è? Chi è? Oh, spara. No, sono io che sparò la macchinista. Ah, è vista quando spari. Dove è andata la macchina? Non la vedo più. Mi dici dove è... Ah, c'è la macchina. Ah, proprio al tizio... Era una di un buggy? Dimmi, Viola. La vedico... Hai visto anche tu la macchina? Io vedo una di un buggy. Stavo sparando a quello. Sì, sì. Un buggy lo l'ho anche coltò in un impeto di mira. Eh, sì, è spostato però. Chissà dove è andata. Però è andato dietro le case. No, effettivamente è andato dietro la roccia a sinistra della... della macchina, credo, eh. Io c'ho lo zoom. Io zoomo tantissimo. Non lo vedo più, però, effettivamente. Sì, però è bello il realismo. Però questi cazzi fogli d'erba, i fili d'erba che si mettono davanti al mirino. Questa assidio. Non vedo nessuno. Eh, allora, la doom buggy è andata dietro alle case. Ed è anche fuori dal cerchio della vita. Quindi dobbiamo muoverci anche noi, Teno. È sicuramente entrato nelle case. Noi siamo fuori, eh. Te la butto lì. Quindi io salirei sulla collina sotto. Noi siamo fuori. Occhio! Dove? Mi sembra che arrivino da est. Ma non verso di noi, però. Eh, sta andando tutti alla casa, lì. Fa un po' si restringe, però, quindi... Io sto salendo sulla collina, Tony, eh. Stai strisciando come un... Un ninja. Sì, sei come un verme nel fango. Vabbè, siamo quasi dentro, per cazzo. Non si sta ancora restringendo. Quindi abbiamo ancora tempo per correre, come forse è nato. Siamo pari da tutti i lati. Li vedo, li vedo, li vedo. Sono a est di dove sono io. Che strisciano, li vedi? Ah, ah, ah. Sta correndo. Ho visto uno. Troppe foglie, troppe foglie. Che merda, troppe foglie. Sono dove c'è la jeep. Io sto correndo. Io vedo la jeep, c'ho la jeep super coperta, ma... Dove stai? Non ti vedi? Sono... Sto scendendo. Ah, cazzo! Ce l'ho addosso. Eh, cazzo. Da dietro sono arrivati, da dove sono usciti? Questo era bello colazzato. Mi hai ucciso, comunque, te lo. Ti ho ucciso io? Sì. Ma no! Ah, questo è top ten, però, signori. Top ten. Sì, tra l'altro solo un kill mi ha dato. Te quanti hai ucciso? Uno. Abbiamo ucciso un sacco di gente, come è possibile? Sono morti di stentino. Forse sono mezzati tra di loro, sì. Probabilmente non erano in squadra, quelli. Spetsitino.